Domanda, perché dici che noi siamo marionette rispetto al libero arbitrio che crediamo di avere? Perché noi abbiamo una libertà relativa che non ha nulla a che vedere con il libero arbitrio. Perché libertà relativa? Perché nelle scelte siamo condizionati dalle nostre limitazioni che ci permettono solo una libertà relativa. Allora la nostra libertà sarà sempre relativa. No, sarà sempre meno relativa in proporzione delle limitazioni che riusciamo a superare. E questo che cosa significa? Che più superiamo noi stessi e più siamo liberi. Ma se adesso siamo ancora delle marionette, chi ci manovra? Ci manovra la legge d'evoluzione che è in noi e che è la scintilla divina. Allora la legge d'evoluzione che è la scintilla divina. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti